Sì, fanno gli amici rostretti perché non c'è amici, non c'è amici, amici, è bello anche condividere, è lazione che ci voglia di amici, ma non c'è amici. Infatti ora, io ero nazi, a qui l'ho accettato dell'elezione di Roberto Loris, e l'idea dell'Azi, proprio per non dispendere, è di fare a Torino un museo con donazioni di chi... Non è pensata male, eh? No, no, è niente. La notazione farà più riservi, sono da riva a mezza gara, non so, insomma. Comunque lei ha fatto un po' poco, le storie di mezza. Ma guardate, hai detto che ci hanno detto, perché? No, è entrato sul avazzo. Grande la settimana fino al sabato erano prati verso la lavoro, in effetti, insedire il coperchio. Al sabato la domenica e utilizzavano per il passicchietto. Ma anche fu una grande infezione. Stupendo? No, che cose. A Pollenza un incontro tra appassionati collezionisti. Il presidente del Topolino Club Firenze, Alessandro Squilloni, intervista Marco Romitti, creatore del Museo Pollenza in Vespa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti